Ciao Nunzia, sono la poetessa Rosa Maria Chiarello. Ti dedico una poesia a tuo figlio Filippo. La speranza Dio misericordioso, dammi la certezza. Ti prego che il mio Filippo resia come spesso lo sogno, sereno, felice, sorridente, come non mai. Che questo suo gesso sia valso a levargli le sofferenze patite in vita. Solo tu, Signore, puoi sapere, ma io confido in te. Posa la tua mano su questo cuore che mi scoppia in petto di dolore quando il pensiero corre a lui. Aiutami, Padre Celeste, a superare l'angoscia che mi opprime per liberare anche il mio amato figlio dal tormento. I saperci, tristi. Mamma.